In questo filmato ho inserito un gruppo di sostantivi e di frasi inerenti al mondo del lavoro, con l'aggiunta di una piccola parte di un filmato che spiega l'attuale situazione lavorativa in Germania. Sempre più persone in Germania sono colpite dal lavoro precario. Sempre più persone in Germania sono colpite dal lavoro precario. E contemporaneamente si devono accontentare di salarii sempre più bassi. E contemporaneamente si devono accontentare di salarii sempre più bassi. 6,55 milioni di persone devono vivere con salarii da fame in uno dei paesi più ricchi al mondo. 6,55 milioni di persone devono vivere con salarii da fame in uno dei paesi più ricchi al mondo. Più di un milione di impiegati dispongono di renditi così bassi che devono avere ben due sussidi di disoccupazione. Più di un milione di impiegati dispongono di renditi così bassi che devono avere ben due sussidi di disoccupazione. anche chi ha una buona formazione si deve accontentare di lavori con salarii bassi. anche una buona formazione si deve accontentare di lavori 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 di lavori. o di un'attività di lavori 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 di Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 La paga horaria. La paga horaria. La paga horaria. La paga horaria. Salari luna. Salari bassi. Bassi salari. Nedric luna. Bassi salari. Nedric luna. Buoni profitti, gute gewinna, buoni profitti, gute gewinna, gute gewinna. Il minilavoratore, de ammini job a, il minilavoratore, de ammini job a, de ammini job a. Il lavoro festivo, di Fiatag's Arbeit, festivo, Fiatag, il lavoro festivo, di Fiatag's Arbeit, di Fiatag's Arbeit. Diritto del lavoro, Arbeitsrecht. Lavoro diritto, Arbeitsrecht, Arbeitsrecht. Il lavoro autonomo, il lavoro indipendente, di Selbstständigkeit. Autonomo, indipendente, Selbstständig. Il lavoro autonomo, indipendente, di Selbstständigkeit, di Selbstständigkeit. Il periodo di preavviso, di Kandigung's Frist. Il periodo di preavviso, di Kandigung's Frist. Di Kandigung's Frist. Il lavoratore a tempo, der Zeitag's Arbeit, der Zeitag's Arbeit, der Zeitag's Arbeit. Lavoro precario. Traducendo letteralmente, vulnerabile occupazione. Un sichera beschäftigung. Vulnerabile occupazione. Un sichera beschäftigung. Lavoro precario. Un sichera beschäftigung. Lavoro precario. Lavoro precario. Un sichera beschäftigung. Lavoro precario. 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 Salari da fame, povertà salari, armutslunen, povertà salari, armutslunen, armutslunen. Il sussidio di disoccupazione, il lavoro sussidio, das arbeitslosengeld, das arbeitslosengeld. Formazione, formazione professionale, ausbildung. Una buona formazione, eine gute ausbildung. Libero professionista, frei beruflicher. Io sono un libero professionista. Io sono, ich bin, libero professionista. Frei beruflicher. La paga oraria, der stundenlun. La paga oraria, der stundenlun. Der stundenlun. Salari, luna. Salari bassi. Bassi, salari. Nedric luna. Bassi, salari. Nedric luna. Nedric luna. Buoni profitti. Gute ghevina. Buoni profitti. Gute ghevina. Gute ghevina. Il mini lavoratore, de ammini joba. Il mini lavoratore, de ammini joba. De ammini joba. Il lavoro festivo, di fai attacks arbeit. Festivo, fai attack. Il lavoro festivo, di fai attacks arbeit. Di fai attacks arbeit. Diritto del lavoro, arbeit's recht. Lavoro diritto, arbeit's recht. Arbeit's recht. Il lavoro autonomo, il lavoro indipendente. Di self-ständic-cait. Autonomo, indipendente. Self-ständic. Il lavoro autonomo, indipendente. Di self-ständic-cait. Di self-ständic-cait. Il periodo di preavviso, di kundigungsfrist. Il periodo di preavviso, di kundigungsfrist. Di kundigungsfrist. Il lavoratore a tempo. Derzeit arbeit'a. Il lavoratore a tempo. Derzeit arbeit'a. Derzeit arbeit'a. Il lavoratore a tempo. Il lavoratore a tempo. Il lavoratore a tempo. Il lavoratore a tempo.